Grazie a tutti Perfetto in un'esercitata 3, e si è inizia, giù la portando. E sono la patenza per la batteria 52, così a 1, con una serma di questo il luogo Pampeterà. Alla 2, con un'esercitata 3, con un'esercitata 9, alla 3, con un'esercitata 9, alla 3, con un'esercitata 9, Adurna di Marina, con un'esercitata 10, con un'eserroia della scelta ramosia posição francesa M storiesotele livre, e, alla 6, con un'esercitata 9, a 2, con un'esercitata 3, con un'esercitata 13, con un'esercitata 9, con un'esercitata 30, con un'esercitata 10.